E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef e questo ci chiamiamo GTA 5 E oggi siamo qui per cercare di provare a fare il nascondino dentro al bunker Visto che ce l'avete chiesto in tantissimi E ovviamente siamo in compagnia di Espigiochi e Luca Esattamente, allora abbiamo notato che quando tu sei nel bunker non puoi picchiare, non ti puoi nascondere, non puoi fare nulla Quindi ho detto, uffa, ci hanno chiesto un sacco di consolini ma non possiamo farlo Esatto Però, casualmente, ci siamo accorti che hanno messo la modalità slasher dentro il bunker Oltre a tante altre modalità Quindi abbiamo deciso di provare sia la modalità slasher sia qualche altra, giusto per provarle e divertirci Dentro il bunker e di fare quindi un po' di nascondino dentro questo fantastico bunker Che è gigantesco ed è pieno di nascondilli Quindi era perfetto da provare, non vedevamo l'ora E speriamo che il video vi piacerà tantissimo È tutto buio Oh no, no, no Accendete la torcia Perché non hai pagato la bolletta del Lenno, Luca? Ma spegni sta torcia Io non vedo nulla Non facciamo beccare Ma è troppo buio Allora, uffa, ti facciamo luce noi, Stefano, non ti preoccupare Buongiorno Sì, ma chi sei? Oh, shish, shish, salve Salve Sì, allora, io sono la guardia notturna di questo posto Ah, buongiorno Che vorrei fare un giro turistico Sì, grazie Luca, il spieggio è stato trovato Mi può far vedere Mi può far vedere dove sono le scorte chiamate Ferenichi Sì, dovrebbero Non ci provare È che sa Non sa mettersi il deodorante Quindi la troviamo subito Ok, perfetto, perfetto Io la seguo un pochettino Però potrebbe anche accendere le luci, eh, sinceramente Scusi un attimo Ho notato che qua c'è qualcun altro Ahia Prenda, prenda Aspetti Lo sistemo, lo sistemo È come una zanzara Basta prendere la botta così Basta prendere Perfetto Bravissimo Ok Ma no, ma no C'è talmente buio che io non so neanche dove mi sono messa Quindi Ma Cella, vedi la nostra luce? Non ti interessa Il codice Morse No, Espy, basta Non credo che sia una buona idea Stef, dimmi qualcosa che le piace particolarmente Un frutto I poni I poni Non è vero I poni Per escapare Cavolo Ma era bellissimo Oh cacchio Via, via, via Eh, io ho provato a nascondermi Non sapete dove Senza vedere dove ero Perché con la torcia Io sapevo un po' dove erano più o meno E quindi era un disastro Cioè, allora Io non vedo totalmente nulla Quando sto senza torcia Sì, sì, non si vede niente Senti, io ho provato a nascondermi senza la torcia Per non farmi scoprire Il problema è che chi l'accende muore Prevalentemente funziona così Quindi Esatto Al momento La torcia non è la torcia Adesso no, non è attiva Perché se l'attivo Vedi dove sono E sono automaticamente morto Non si vede niente Allora Facciamo un 3, 2, 1 E l'accendiamo entrambi No, non mi fido Perché tu non l'accendi Dai, dobbiamo fare le persone oneste In questi casi Ok 3 2 1 Non mi sembra di vedere quella di Espy Ma se siete Non siete uno di fronte all'altro Non credo C'è qualcosa del genere Buongiorno Vicinissimi Espy zitto zitto è andato Mamma mia Perché a me rifletteva la mia stessa luce Con i monitor che ce l'hanno davanti a me Sì, è vero Ma tu pensai a nascondirti da solo Guarda Non dovete stare tutti insieme Non esiste un nascondiglio buono In questo bunker per tre persone Espy Quindi fai il coraggioso per una volta Allora Espy sei nascosto? Sì Fere sei nascosta? Sì Luca sei nascosto? Sì Perfetto Posso andare in giro Allora Vedete la mia luce cari miei? No E anche se la vedessi Non te lo diremmo Siete sicuri? Non dire queste cose Frenichi Io non glielo direi Espy Io non glielo direi Io sento una voce un po' spaventata No Di chi? Di tutti e tre Ma soprattutto di Espy A me lui sembra parecchio preoccupato È che devo andare in bagno e per quello Sì sì certo Non ci cresca nessuno Ma con questo buio guardate Anche se ci siete non vi vedo No ci puoi contare Ci puoi contare Allora devo controllare dietro ogni angolo C'è nessuno da queste parti No Espy tu sei vicino a me Quindi Espy e Luca dite di essere vicini? Forse Forse Ok E vedete qualche luce? No Oddio sento qualche rumore È gigantesco Secondo me uno di voi è nascosto qui Secondo me uno di voi è nascosto qui No 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 non siamo nascosti lì Tranquillo Allora vediamo Io ho un'idea di dove siano Sono dove c'è Dove si modifica Il centro operativo mobile Oh che dici? È una spiazzola gigantesca Ed era molto figo per nascondersi Eh beh Però non c'è nessuno Nessuno l'ha utilizzato Nessuno l'ha utilizzato Quindi siete tutti nei tunnel iniziali a questo punto Perché Era la zona più vicina dove andare E dato che ho visitato quasi tutto Siete lì Ho ancora 40 secondi per trovarvi Uh buongiorno Allora uno non c'è più Ma come? Espi hai preso Chi è che è l'altro che fa finta di nulla? Due non ci sono più Direi che eravate vicini Eravate uno a fianco all'altro Disgraziati Nei bagni chimici Dentro? No Dietro i bagni chimici Ah a fianco ok Dietro 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 Ok Manca solo Fere però Ho solo 10 secondi Dopodiché mi tocca spegnere la luce Esatto Fere Ho visto Fere dove sono? Ho paura Ho già perso un round una volta Uh Basta Dai 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 Spengo Avete visto dove sono? Sì Allora Vedere nel nulla Io non vedo nulla Però se sbatto vuol dire che c'è un muro Oddio perché l'è accesa Perché l'è accesa? Perché rimango pronta così Hai capito? Così come? Niente Capito? Dov'è? Non è c'è Ho visto le luce Intuisce che sono nella zona Te la sto facendo apposta No Ma dove? Non si capisce però È dietro un angolo Cioè è pronta No non è dietro un angolo Dai che la trovi Aspetta Dai ste Ma Ma È il posto più ovvio Ma non vuole fare Ma se vengo mi spari Esatto Sono prontissima Apri la porta Apri la porta Dov'è? 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 No dai Non si capisce nulla Quando spedì la torcia Ho detto dove è finito Non pensavo che potesse passare attraverso la luce Ma che se non sapeva Io proprio la vedevo come se tu fossi in giro Per tutto il resto del posto Esatto Anche tu quando sei passato lì davanti Non sei entrato in un appartamento Ma vedevo la tua luce Però Normalissimo Chi è questo? Chi è? Io Ok Luca seguimi Ok io mi metto da parte Nascondetevi Espi fissa al muro Fissa al muro Sì un'idea di dove nascondermi Fere c'hai visto? No Dove siete? Siamo all'inizio Proprio all'entrata del bunker No io vedo solo Espi Aiuto che guarda un muro Corri via Veloce manca poco Ti sparo No Luca ci mi hanno nascondito da soli Vieni 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 Hai capito? Sì Ok perfetto Allora io mi metto qua Preciso Dai dai gente Il tempo sta scorrendo Io mi sono nascosto No a me non trovo nessuna Veloce Luca Facciamo un Cinque Quattro Quattro Tre Due Uno E parla caccia Dove siete? Non so dove sono Allora Espi Che posto brutto Espi ha chiesto dove siamo Io sono sotto terra Io sono uscita fuori dal bunker Me ne sono andato Ciao Espi Ferre se ne è andata direttamente Fuori dal bunker Come te ne sei andata? Sì ha detto che non sei divertente Espi Eh sì sai come Non sei molto bravo a cercare Quindi direttamente Quattro Quattro Forza Espi Manca un minuto a trenta Non vorrei mica romare Cosa un minuto a trenta di già? Eh già Non vorrei mica romare Sia a me che a Luca In contemporanea Con un bel fucile a pompa Non te lo consiglio Mio Dio non ho trovato nessuno Fino a questo momento Ferre dove sei? Ma sta malissimo Sono tipo attaccato a un muro Stra visibile Roba che se passa Mi becca in zero secondi Ok allora Ferre è sacrificabile Almeno cerca di scappare Almeno cerca di scappare Quando ti trova Ferre Così Tipo adesso No ma c'è l'altro muro Dove scappo? Resisti Ferre Per il tempo E poi giù Ferre si è andata a dieci secondi Scusa la cattiveria Ma io te l'ho detto Che faceva schifo Abbiamo 50 secondi adesso Ho dovuto fare tutto il bunker Per raggiungervi Eh vabbè sì Ci ho messo un po' Quindi dai Non è stato proprio così pesante Ui i vostri sono belli I vostri sono belli Eh sì Allora L'unico indizio che ti diamo Espi A parte che ci stiamo annoiando qua Stare al buio da soli È il fatto che Non abbiamo mai visto La tua luce fino ad ora Quindi non sei mai passato Nella nostra zona Sono appena arrivato Da queste parti Eh lo so Lo so Però c'è la cartina Non te l'hanno data? E no No Mi dispiace No non mi hai dato la cartina Maledizione Guarda questa cartina La vedi? Quale? No Dai sto facendo luce In tutta la mappa No 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 È un caso disperato È un caso disperato È un caso Aspetta non è che qua? È arrivato È arrivato Occhio Occhio Scappa Luca veloce Tre secondi Guardalo Guardalo come spara Io ho il fucile Occhio che avete l'armita È pochissimo Sono quasi morto Dov'è? Dove siete? Dov'è? No sono morto Luca attento Vai Luca Vindicaci Dov'è? Ti prego È troppo distante Luca tocca a te Uccidi il traditore Luca è tutto nelle sue vani Non per metterti ansia Tranquillo Ok Bravo Grande Luca Grande Bravissimo Ero stornito Non ho capito Che aveva vinto Luca Perché era Era appena arrivato In spec Ma chi è che Aveva sparato chi? Cosa è successo? Espi così impari a ingannarci Sei comparso all'improvviso Disgraziato Guarda Mio Dio ma sono un rinoceronte Stef Tu sei sempre stato un rinoceronte Devi staccarmi Ma che mu Dov'è? Io sono le tizze A Luca cerco i signi Come fanno i rinoceronti? È vero È un rinoceronte Mamma mia Vai Espi Picchia tutti Allora io mi nascondo qua Ma sono già arrivati? No Eccoli Ok 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 Guarda lì Granata Attenzione Ma sono lotterissimi Stef Ci ho provato lo stesso Ok Guarda come stanno spuntando Allora Aia 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 Fanno male Espi stiamo vincendo? Aia Chi è che mi spara? Faccio il giro Ma sacrificarti Lentissima Sì Espi tranquillo Sono il tuo difensore Sono il tuo difensore Sono nato per sacrificarmi Muori Luca Yes Ma dai Ok Ne è rimasta solo uno Eccolo Aia No Ok Mi ha buccato un sacco Espi Vendicami Ti stavo aspettando Allora Preparo la granata Preparo la granata No Luca 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 No Aia 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 Sto pensando a Luca Sto pensando a Luca Aspetta Mi sta tirando una granata Uo è morto Ah ah Le ha splato addosso Ok Vado io Espi No l'ho smintragliato io Qui Anzi con teco Espi non ce la posso fare Devi andare tu Non so dove siano Mi spiace È troppo forte per me Non so dove siano Devi andare tu Allora Io punto a Luca Io punto a Luca Oh mamma mia Andato E va bene Però non è giusto Però Ora Con questo il cuore di Luca No Sto poi di morta In fondo a sinistra Ok Ciao Fere Muori Ma fai schifo Da dove sei arrivato Dalle spalle Fere No Guarda che ho provato Dalle spalle Anche Luca Con una granata Eh sono arrivato giusto Leggermente prima di Luca Mi sa Direi che ci siamo per me Così per questo video È stato davvero davvero divertente Purtroppo Non possiamo farlo Nelle proprio Nel nostro modo classico Perché Il gioco non ce lo permette Eh esatto Un peccato Però Va bene anche così Nello slasher C'è davvero un sacco di buio Ce la siamo cavata Un po' con le torce Abbiamo fatto questa scelta Però Ce la siamo cavata Ci siamo arrangiati un pochettino Però anche gli altri monitor Erano abbastanza divertenti Quindi È stato carino giocare Speriamo che il video vi sia piaciuto Nel caso lasciate tanti likes E ricordatevi ovviamente Di passare dal canale di Espegio Ok Ci fermiamo così Spero che ci siamo riusciti Sì Lasciateci un like Nesta prima volta che vi è avuto Alla prossima Ciao Ciao